un saluto a tutti questo è il canale del gruppo studi girar che è un canale che si occupa di la diffusione del pensiero dire ne girare un critico letterario antropologo francese del novecento in riferimento facciamo riferimento comunque al blog delle cose nascoste ci occupiamo di cinema anime fenomeni culturali di vario genere letteratura eccetera eccetera e questa sera ci occuperemo dell'analisi di degli spiriti dell'isola del film di martin martin mcdonough gli spiriti dell'isola o the benches of inesherin e ovviamente l'occasione quella in qualche modo poi della della 95esima cerimonia degli oscar il film di mcdonough è candidato a varie statuette tra cui per esempio miglior film miglior regia miglior sceneggiatura originale e sostanzialmente anche la maggior parte delle delle nomination è legata al cast un cast di attori particolarmente ben insomma ben riuscito possiamo dire colin fare il come attore protagonista brandan glison e barry keoghan per attore non protagonista e poi anche carrie condon per attrice non protagonista e non cioè mi sembra abbastanza comunque rilevante iniziare secondo me da questo aspetto che comunque lega anche un pochettino l'occasione di quest'analisi per questa serata rispetto al rispetto appunto all'evento degli oscar perché secondo me rispetto ad altri film ai precedenti film di mcdonough escluso tra i manifesti e ben missuri che comunque ha avuto grande successo in qualche cerimonia degli oscar passata questa volta più di in bruges più di sette psicopatici che sono i primi due i due film di altri film di mcdonough in qualche modo questo è un film effettivamente più di scrittura e in particolar modo scrittura di personaggi cioè a differenza del dei precedenti film dove il meccanismo di genere e come dire la la scrittura è più eh intesa sostanzialmente per andare a costruire anche un colpo di scena quindi una sorta di eh architettura abbastanza un marchi ingenio quasi ad effetto che cerca in qualche modo eh il colpo di scena eh in questo caso invece ehm vi è proprio questa ehm come dire riflessività questa lentezza che permette invece di vedere eh agire un meccanismo sì ma a livello dei personaggi cioè a livello proprio della ehm giusta eh delineazione e definizione psicologica eh del delle della appunto dei caratteri dei due protagonisti in particolar modo chiaramente e che però appunto sono contornati da tutto un altro insieme di di personaggi che eh permettono poi al film di eh restituire in qualche modo anche ehm una sorta di ehm come dire ehm diciamo così in qualche modo di ampliare l'effetto psicologico della relazione tra i due personaggi principali al invece eh collettivo dell'isola ok? Ehm ovviamente ci sono eh molti temi da da affrontare chiaramente io per ehm diciamo così introdurre poi passare e poi passare la parola eh direi che secondo me eh un un aspetto un aspetto centrale è sicuramente ehm quello eh della ehm in qualche modo ehm come dire ehm concentrazione proprio sulla eh relazione che procede fondamentalmente alla costante ricerca dell'ostacolo per in qualche modo resistere nel tempo ehm procede in qualche modo di scandalo in scandalo cercando la separazione ma in fondo non cercandola davvero eh ed è proprio questa centralità dell'ostacolo questa centralità del modello ostacolo poi chiaramente che è un termine eh che è un termine ovviamente chiave della della filosofia girardiana del pensiero girardiano che adesso poi andremo meglio a definire scandaliare però eh è da lì che sostanzialmente vorrei vorrei partire nella definizione poi eh del movimento eh del film a questo poi è legato secondo me ovviamente ma poi ne parleremo approfonditamente l'evoluzione che procede verso la violenza ehm mantenendo comunque eh questa è una cosa interessante l'effetto anche della eh ritrascrizione riscrittura mitica della eh che cerca in qualche modo di ehm lenire di esorcizzare questa violenza stessa immaginando anche delle figure più o meno eh sopranaturali che danno un coté eh destinale eh fiabesco per certi aspetti alla alla vicenda eh eppure eppure la violenza è estremamente estremamente eh severa drammatica e e reale ehm la sensazione che ho avuto guardandolo comunque che eh come dire eh cioè sembra quasi una narrazione che può essere avvicinabile a per esempio una novella del boccaccio piuttosto che un episodio biblico o comunque qualcosa che abbia una che abbia la l'insistenza sul tema e la eh delimitazione molto molto forte degli spazi del tempo ehm come dire eh moltiplichi l'effetto eh della della dell'andamento poi della dell'andamento drammatico e drammaturgico e quindi io partirei introducendo appunto questi questi due temi ma vorrevo ragionare prima di tutto sulla eh ovviamente sulla questione della relazione tra i due tra i due personaggi come la vedete voi eh perché sei arrivati fino a quel punto quali sono le le effettivamente poi le motivazioni dei 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 due personaggi da che cosa nasce in qualche modo il conflitto e quindi passo la parola a chi a chi vuole prenderla. Buonasera a tutti. Allora eh è un film che personalmente mi ha emozionato molto. Mh è un film sulla cui lettura sono anche a tratti di battuto eh con me stesso ovviamente perché mi rendo conto che si presta potenzialmente a una lettura manichea quasi o estremamente polarizzante. Nel senso che per farla breve la sensazione è che si possa leggere come eh il film in cui un'anima dannata dagli scandali cerca di trascinare nel proprio abisso un'altra anima che è immune o così ci viene presentata agli scandali. Immune quasi da avere più familiarità con gli animali di cui circondato che sono una presenza secondo me fondamentale in questo film. Altamente simbolica anche senza scomodare eh diciamo riferimenti magico naturalistici ma sono proprio anche per l'esistenza con cui il regista l'inquadra. L'inquadra soprattutto guardare in camera. È una cosa che è molto presente questo sguardo della della dell'animale in camera. In camera ovviamente nella cinepresa intendo. E questo sguardo che è rivolto verso la cinepresa è un'interrogazione su questa importanza che il protagonista perché il protagonista il demiurgico quasi è colmo ovviamente colui che con i propri scandali in qualche modo orchestra l'andamento di di tutta questa piccola comunità. E la trascina nel proprio nel proprio scandalo che è quello di una ricerca fondamentalmente di di mortalità che non è altro che la ricerca di essere modello per generazione e avvenire. Quindi mi rendo conto che la lettura è un po' manichea questa perché ovviamente parte da rilevare subito dall'inizio questa 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 polarità già data si ci si può interrogare sul perché da cosa venga il ruolo della sorella in questa in questa polarità però assumendo anche banalmente il dato iniziale noi abbiamo questa presenza che decide a un certo punto di negarsi alla relazione anzi di disconoscere totalmente la relazione e dall'altra parte una persona che sembra assolutamente inconsapevole del potenziale scandalico del proprio comportamento che vede la propria vita frangersi come è ben rappresentato in questa immagine finale in cui lui distrugge l'immagine di se stesso nello specchio una volta che ha perso l'ultimo ancoraggio alla propria identità che è il suo animale la compagnia il piccolo pony i geni. Quindi un film che è una discesa agli inferi una discesa agli inferi che può avere degli eco sicuramente può essere simbolica di quello che poteva avvenire sulla terraferma in quel periodo però la sensazione che ho avuto è questa in un film intemporale potremmo dire giustamente matteo sottolineava la quasi l'angostia temporale spaziale essere estremamente circoscritto dagli quasi il carattere novellistico potrebbe veramente diventare quasi un carattere mitologico a questo punto proprio perché diventa intemporale diventa una storia che fa eco a una storia che si attualizza nella storia degli uomini là sulla terraferma e in questa terra questa isola tutta la simbologia che può avere l'isola come che ha avuto come luogo di immersione della coscienza avviene questo conflitto che è il conflitto eternamente ritornante della persona tra il proprio essere relazione lo scandalo come unica forma di esistenza relazionale ovviamente insalubre e il tentativo di di ripresentare una temporalità diversa bellissimo quel passaggio in cui il passaggio che porterà colma a dire che padre che non era mai stato così interessante quando lui va nel pub la sera a questa sfuriata dopo aver bevuto e lui gli dice una cosa che si ricorderà di noi fra 200 anni fa 300 anni chi si ricorderà della vostra gentilezza e padre gli dice io mi ricordo la gentilezza dei miei genitori quindi a ripresentare una presenta una temporale totalmente diversa la temporalità della relazione che al contempo effimera fuggevole ma in quella quell'eterno cairologico che apre un tempo altro l'ho trovato molto molto toccante insomma questa temporalità della tenerezza di coloro che piangono i morti non di coloro che rimpiangono la mancata memoria di sé questo è un aspetto che che mi ha colpito molto e che mi porta una lettura forse un po troppo manichea perché ovviamente sappiamo tutti che in certo senso non esiste l'innocente privo di scandalo però in questa forma appunto circoscritta e mitologica mi ha dato questa sensazione questi sono primi spunti aperto a contestazioni ovviamente inizio io poi lascio la parola anche a pietro per concludere il primo giro e a me è piaciuto molto il film particolare come si riesca attraverso un un ambiente una collocazione spazio temporale così particolare comunque siamo in una cittadina piuttosto peculiare nel soggetto tipico dei film in un tempo storico che comunque viene caratterizzato vengono date delle coordinate e come però questo particolarismo risulti poi funzionale al diciamo in un certo senso a rendere le scene le le scene le le dinamiche che si svolgono veramente universali e diciamo universali se ovviamente interpretate anche dal mio punto di vista con l'ausilio di del pensiero di girare e io mi sentirei di sfidare qualsiasi qualsiasi lettura si manichea e che pure insomma immagino siano piuttosto piuttosto diffuse per lettura manichea intendo anche un po più in generale qualsiasi lettura che cerca di diciamo porre leggere delle assimetrie tra i due protagonisti allora comunque i personaggi del film sono in un numero veramente ridottissimo immagino siano più o meno quelli un po più rilevanti sono 5 o 6 che in buona sostanza tutto si può ridurre a si potrebbe ridurre a due personaggi credo gli altri hanno più che altro la funzione di illuminare qualcosina sulla relazione di questi due personaggi non so allora è un film anche molto curato e quindi bisognerebbe anche forse discutere discuterlo scena per scena e io l'ho visto solo una volta però ricordo alcune scene che per come interpretate io andavano proprio nella direzione di mettere in discussione una qualsiasi assimetria tra i due personaggi la simmetria sembrerebbe esserci sin dall'inizio perché è uno che decide di interrompere la reazione mentre l'altro vuole andare avanti quindi qual è la simmetria più evidente di questa se però lasciamo da parte che insomma quello che è il trailer e entriamo un po' nel insomma nel dettaglio cioè ad esempio la prima scena in cui loro due si incontrano e vanno al bar lui si Colin Farwell come non mi ricordo come si chiama nel film comunque entra Padraic entra nella locanda cerca di parlare con l'amico l'amico prende ed esce lui cosa fa esce va anche lui al tavolino gli si mette di fronte poche sequenze dopo c'è la stessa scena in cui i ruoli sono ribaltati Padraic esce dal dalla locanda si mette fuori noi tutti ci aspetteremmo come tu non vuoi la relazione te ne starai lì dentro vuol dire che finalmente ha capito no l'amico va e gli si pone davanti e sembra che ci sia un una differenza anche intellettuale tra i due che secondo me però insomma ci credono ci crede poco anche lo stesso non mi ricordo invece il nome dell'altro scusate colm colm grazie Teo e sembrerebbe crederci poco anche lui è divertente quando la sorella gli fa notare che non sa neanche collocare nel secolo esatto Beethoven che sembra essere un grande genio della musica dell'arte e adesso qua sa Mozart insomma l'ignorantone e quindi ecco elementi di assimetria sarei proprio insomma pronto a metterli in discussione anche quelli un po' più sottili alcuni dei quali anche avanzava e avanzava Simone questo però nonostante questa totale indifferenziazione che dovrebbe coincidere con poi diciamo la dovrebbe andare progressivamente con un aumento della violenza in qualche modo si ferma non va fino in fondo e da qui dal mio pensiero tutto sommato anche un po' ottimistico e positivo sugli insegnamenti sul messaggio che vuole far passare il film però mi fermo e magari discutiamo dopo di questo se vuoi mandare tu Pietro ma io a questo punto aggiungerei solo qualche piccolo elemento nel senso che anche io volevo andare nella direzione che ha percorso già Marco quindi non starò a ripetere cose già dette aggiungerei questo elemento qua nel senso che è vero che uno solo dei due personaggi compie il gesto di separazione, di rottura della relazione ma il fatto che cioè fin da subito quello che viene mostrato è il fatto che questa cosa crea uno scompenso totale nell'altro personaggio che poi ha come dire maggiore enfasi perché tutti i personaggi intorno a lui come dire lo amplificano quindi mi sento di dire la dinamica è comunque sviluppata con entrambi che partecipano attivamente nella misura in cui anche l'attività come dire morbose di attaccamento una relazione in qualche modo genera per contro un impulso a staccarsene e questo secondo me viene abbastanza sottolineato ci sono anche qui le scene in cui la cosa viene sottolineata anche strappando il sorriso al pubblico e quindi diciamo in un film in cui non succede spesso risalta anche per questo tipo la scena in cui è addirittura il prete che si fa portavoce in un momento dell'altro il più particolarmente inopportuno cioè quello in cui almeno sembrerebbe inopportuno cioè c'è il personaggio che va a confessare c'è una persona che va a confessarsi e tu gli vai a rompere le scatole su quella cosa lì cioè cosa c'entra e per cui secondo me fin dall'inizio nel proseguo del film la cosa diventa più evidente perché chiaramente man mano che invece l'attrito aumenta diventa anche più palese che è un po' cioè si passa davvero un po' a risposta e quindi diciamo la simmetria si afferma in maniera più esplicita eccetera ma fin dall'inizio anche se sembrano gli antipodi i due personaggi in realtà come dire si lanciano comunque dei diciamo così dei segnali non saprei di usare un'espressione adeguata cioè magari chi ha studiato psicologia lo saprebbe scegliere in maniera più corretta il termine però cioè ognuno di loro due lancia degli input agli altri tanto più chi sembrerebbe strano a volerli fare cioè nel senso un personaggio sembrerebbe massimamente propenso a evitare che ci sia il distacco dell'altro e viceversa l'altro sembra massimamente propenso a evitare che l'altro cerchi di riallacciare il rapporto ma in realtà cioè se uno va poi a analizzare le singole scene vede che gli elementi che stimolano l'opposto sono continui ecco quindi semplicemente questo elemento volevo aggiungere all'intervento di Marco io vorrei cercare di andare a definire la maniera più come dire proprio precisa possibile quello che in fondo è il il motivo della dello scandalo cioè perché il punto è questo il conflitto comincia ad emergere in quella che diventa tutti gli effetti una crisi di indifferenziazione perché come stavamo dicendo per l'appunto i due personaggi in qualche modo in maniera molto anche incoerente rispetto alle scelte che sembrano assumere in qualche modo è come se una forza di gravità di attraesse verso medesimi comportamenti comportamenti rispecchianti e la cosa diventa particolarmente più scandalosa e stimola ancora di più poi fondamentalmente il ricorso alla violenza in qualche modo cioè una forma di tentativo di annullare l'altro proprio perché da entrambe le parti in qualche modo l'istanza che vorrebbe imporre fondamentalmente una differenza rispetto all'altro vacilla e sostanzialmente poi fallisce in realtà appunto quello che diceva quello che diceva Simone il fatto questo rischio in qualche modo di assimetria questo rischio di interpretazione manichea consiste nel fatto che nella meccanica narrativa del film sembra essere proprio colm quello effettivamente a scegliere di intraprendere una strada da questo punto di vista da un giorno all'altro decide lì non parlare più a Padraic perché questo non è facilissimo da non è facilissimo da individuare secondo me ci sono almeno due aspetti un aspetto è quello che sicuramente ha secondo me giustamente sottolineato sottolineato Simone cioè intanto appunto colm sembra una persona che viene fatto notare da anche più personaggi tende fondamentalmente alla depressione a uno stato di costante perenne inquietudine angoscia esistenziale eccetera eccetera perché è come se in qualche modo desiderasse fondamentalmente una propria affermazione eterna cioè un proprio definirsi un proprio come dire rifulgere nell'eternità possiamo dire così attraverso qualcosa di estremamente romantico appunto la menzogna romantica di cui di cui Girard stesso dice cioè la musica che cosa c'è di più romantico fondamentalmente di più sublime esteticamente parlando rispetto rispetto alla musica e lui quindi da una parte cerca di differire dall'altro proprio cercando di affermarsi come artista come artista che in qualche modo vada a fissare la propria immagine nell'eternità dall'altra però ed è secondo me il punto invece più basso questo in qualche modo è l'ostacolo che viene posto in alto ma l'ostacolo che invece c'è più in basso secondo me è questo ed è molto più semplice io ho la sensazione che Colm in fondo sia profondamente scandalizzato dalla semplicità con cui vive Padraic cioè Padraic vive in maniera veramente semplice certo si ha questa sensazione ovviamente un po' idealizzata ma è comunque estremamente autentica la relazione che lui ha con gli altri esseri viventi che non siano gli uomini ok e quindi c'è anche tutta questa in qualche modo questa sensazione che viene questa sensazione che lui stesso comincia a lui stesso comincia a diventare cosciente di essere sostanzialmente sempre più isolato sempre più pensato come il matto del villaggio lo stupido del villaggio e quando diventa umano Padraic che invece comincia a in qualche modo cercare di imitare gli uomini con i loro comportamenti peggiori e secondo me Colm soffre tantissimo il fatto che appunto Padraic non si pone quel tipo di domande cioè lui basta effettivamente bastava effettivamente quella relazione che era chiacchiera si continua questo continuo utilizzo del termine chat chatting eccetera eccetera soprattutto all'inizio che in Heidegger la dimensione della chiacchiera è la dimensione in autentica per eccellenza ecco invece Colm che invece punta all'autenticità all'affermazione al tentativo di ritrovare appunto una sorta di fondo autentico in se stesso quindi io vedo questi due aspetti un aspetto che tende in verticale verso l'affermazione eterna di qualcosa di sé poi allora da una parte c'è questo movimento questa tensione verso l'alto verso il tentativo artificiale di porsi come trascendenza e di fissare la propria immagine nell'eterno nell'eternità ok nella memoria ovviamente è un ostacolo particolarmente gravoso per Colm perché date le condizioni di partenza va da sé che in un'isola grossa così dell'Irlanda puoi anche essere un buon musicista da locanda ma santo cielo Mozart e Beethoven davvero questi sono i tuoi modelli insomma è un po' improbabile e dall'altro punto invece questo modello più questo scandalo più orizzontale che si manifesta in questa scelta di porre fine alla relazione e però siccome la sua struttura psicologica è totalmente centrata sull'ostacolo la scena che citava Marco e che citavi anche tu Simone di Padraic che in qualche modo ubriaco prende parola davanti anche al poliziotto presente anche il figlio del poliziotto appena malmenato che lui ha ospitato a casa e davanti a Colm ecco la scena di poco successiva appunto Colm lo ammette è quello il momento è quello il momento per cui è tornato in qualche modo ad amare Padraic cioè ad amare nel senso a volerlo vicino a volerlo vicino proprio perché si è posto in una forma si è affermato come modello in quella situazione un modello da lui cioè da lui concepibile come meno scandaloso perché ha fatto una cosa più umana l'altro Padraic invece nel suo processo in qualche modo di umanizzazione partendo da un presupposto in cui appunto lui è l'uomo che sta con gli animali è l'uomo che si relaziona con l'asinella con il cavallo con eccetera eccetera con le mucche ok ma come dire c'è veramente un processo di umanizzazione in cui lui tradisce tradisce esplicitamente la gentilezza di cui in qualche modo viene riconosciuto e si fa portatore e quindi è interessante questa cosa qua perché è come se fosse un processo inverso in cui poi effettivamente a violenza sfogata è come se poi si ricongiungessero tra virgolette con quello col sorrisetto che viene fatto e quel anytime che viene detto da Colin Farrell sulla spiaggia ecco si ricongiungono nella separazione quindi cioè effettivamente ci può essere questa nota questa sfumatura in qualche modo ottimistica certo la violenza è stata consumata è stata consumata ed è esplosa su i più innocenti di tutti la sinella e voglio dire cito solamente quest'anno c'è un altro film bellissimo con il protagonista che ha come protagonista un asino che è I.O. di Gersi Skolimowski che è una sorta di strano remake di Oazar Baltazar di Bresson dove l'asino viene fatto viene utilizzato e proprio l'occhio dell'asino il riflesso del suo occhio sul mondo fa vedere cioè è lì a testimoniare la violenza del mondo in questo caso ovviamente non c'è solamente l'asinella che è proprio cioè è pazzesco perché muore muore mangiando cercando di mangiare le dita prodotte dall'automutilazione quindi l'ascesi dell'eroe romantico che vuole in qualche modo perché anche lì automutilarsi e lanciare addosso alla casa è proprio manifesta testimonianza di voler affermare una differenza e però tu la stai affermando dicendo guardami che cosa sto facendo quindi cioè stai cercando comunque la relazione il problema è che l'unica relazione che Colm riesce ad accettare da parte di Padraic è un Padraic imbruttito è un Padraic che perde la sua gentilezza perché quella gentilezza è quella mitezza è ciò che è massimamente scandaloso per Colm e ovviamente l'altro che è l'altra vittima di cui di cui bisogna parlare è il personaggio di Dominic che è interpretato splendidamente da Barry Kjogan il quale essendo il matto del villaggio essendo l'ultimo del villaggio su di lui in qualche modo deve sfogarsi la violenza anche se evidentemente poi probabilmente si è lasciato andare si è suicidato una volta smarrito l'unico sogno l'unica possibilità di uscita da quella immagine che la comunità aveva reificato perché appunto comunque è un film di comunità in cui c'è il poliziotto fascista cattivo c'è la bottegaia postina in picciona c'è eccetera ci sono questi personaggi che sembrano venire fuori dalla fiaba da un contesto mitico io sinceramente più va avanti il lavoro di McDonough più mi sento di dire che in occidente sia uno di quelli che lavora di più sulla decostruzione del mito del manicheismo in qualche modo cioè mi sembra che anche in tre manifesti Ebbing Missuri la direzione era quella cioè lui parte da un'atmosfera che sembra o il tipo il western di frontiera ok o il noir o questo non saprei come definirlo dramma dramma commedia dramma commedia amara rurale ok un po' fiabesco per arrivare ai personaggi e sinceramente in occidente uno che arriva così là sulla cioè che ha il coraggio anche di insistere così tanto sulla meccanica narrativa che si ripete sempre uguale a se stessa è molto sfidante cioè non è una cosa che si vede non è una cosa che si vede cioè il suo il suo cioè è bello perché appunto il suo la sua narrazione non procede in verticale cioè o non procede in una direzione che ha una fine cioè non ha una fine paresemente non c'è una fine di sta cosa è un avvicinarsi alla verità simmetrico che progressivamente da una certa distanza si avvicina sempre più fino a fino ad entrare in collisione e quindi per riassumere ecco cioè la questione secondo me del motivo dello scandalo comunque secondo me può essere quello certo all'occhio occidentale rischia di e lo stesso anche io mi sono chiesto ma se una persona facesse come reagirei cioè se una persona ad un certo punto mi dice voglio più parlare cioè cioè perché da una parte l'occidentale potrebbe dire cazzo ma è la scelta libera di un uomo è la scelta libera di un uomo ecco la deresponsabilizzazione dalla relazione in questo modo gettando scandalo seminando discordia è in fondo l'insegnamento di questo di questo bel film allora subito una precisazione io sono assolutamente d'accordo la mia proposta di lettura marichea era come dicevo qualcosa in cui sono in cui ho dibattuto tra me e me perché ovviamente come come dicevo anche prima alla fine sappiamo che non esiste un innocente è sicuramente un fatto che padre venga rappresentato così e con questa anche appunto simbolica simbolico specchio negli animali ci sono ci sono un sacco di scene di figure che simboleggiano questo mi sono anche chiesto cosa potesse veramente appunto aver scatenato questa 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 crisi conclusioni erano assolutamente affine a quella che ha tratto Matteo mi sono chiesto come dicevo prima anche il ruolo della sorella che credo che sia di estremo scandalo per colm la dedizione che la sorella ha per il fratello tant'è che c'è quel c'è il dialogo quando lei va a riprenderlo a dirgli che cosa fai non c'è bisogno adesso che eccetera eccetera e colm le chiede se anche lei in qualche modo capisca i suoi sentimenti e lei se ne tira fuori perché si rende conto che che lei in fondo comunque ha i suoi scandali ha i suoi fantasmi ha anche probabilmente comprensibilmente una sua scandalizzata in sofferenza per la vita in quella comunità gestita in un altro modo rispetto a come sembra gestire la colma che forse vede in lei un modello silente di persona che ha una cultura a cui lui si sente più affine rispetto a quella di altri paesani nonostante appunto come abbiate già sottolineato in verità lui non sia a livello di Shibban lei ha questa accettazione e questa appunto dedizione nei confronti di un fratello che vive in un modo per colma inaccettabile il lancio delle dita avviene in momenti in cui sembra più veramente un dono un dono un rilancio un dono per il fatto che come diceva Matteo padre ecca si è gli ha donato la sua umanizzazione perché avviene sempre in momenti successivamente in cui padre accetta o comunque si lascia prendere dall'imitazione dello scandalo che vive e gli dona il proprio scandalo la propria insufferenza e di fronte a questa cosa sembra quasi appunto che le dita lanciate siano l'unico modo che colma per scaricare la tensione di un dono che per lui è insostenibile è quasi insostenibile è veramente insostenibile e il fatto che alla fine dopo la violenza scaricata Colm lo ringrazia per la gentilezza che ha avuto col proprio cane per me è estremamente simbolico è come se fosse finalmente riuscito a fare pace con la sua gentilezza dopo che è arrivato a sacrificare a immorare veramente tutto quello che era la vita di Colm che è un particolare su cui mi sono interrogato nella casa viene presentato come un artigiano che fabbrica simulacri fabbrica bambo e fabbrica maschere e anche questo elemento qua mi sono chiesto quanto fosse condizionante del proprio scandalo il fatto di avere a che fare con la produzione di simulacri di identità che siano l'imitazione dell'umano il più possibile vicino ma senza mai raggiungere la pienezza dell'essere umano e detto questo accolgo veramente favorevolmente l'obiezione alla lettura manichea assolutamente è quasi più che altro la lettura manichea una diciamo probabilmente uno stratagemma narrativo proprio per per mettere in scena il mito perché per esempio padre ogni tanto sfoggia dei termini totalmente incongrui con la sua figura di ignorante quando gli dice nove dita è l'epitome dell'avere problemi mentali e lui dice sì ho detto pitome glielo ripete proprio per cui c'è sicuramente nel loro passato qualcosa che non viene mostrato ma che rende sostenibile la lettura manichea ma appunto l'aspetto manicheo è come viene presentato ci viene presentato come un viaggio all'inferno e il viaggio all'inferno alla fine lo si fa in due uno che tira e l'altro che segue e dice proseguiamo andiamo colgo assolutamente l'obiezione ci mancherebbe anzi ben venga tra l'altro la nota sulle marionette le maschere i simulacri eccetera è interessante perché all'inizio del film Padraic indossa una maschera cioè se la mette è come se da lì iniziasse effettivamente questo processo di perdita dell'identità in un'immagine chiamiamola sociale ma non è esattamente sociale diciamo è più relazionale che gli viene suggerita in fondo da Colm che è un cattivo modello un cattivissimo modello perché che cosa fa alla fine cosa è la questione è che quando tu vai a lanciare appunto i frutti della tua automutilazione contro la porta di casa di un tuo amico tu non gli stai testimoniando il dolore cioè se Colm avesse semplicemente messo in gioco messo in relazione messo al centro donato come dicevi tu Simone donato il proprio dolore io non so padre cosa avrebbe fatto probabilmente non avrebbe forse nemmeno compreso ad un certo livello non avrebbe intellettualizzato ma sicuramente non sarebbe nato questo tipo di di meccanismo che necessariamente poi procede per come una faida a un rilancio costante di verso atti sempre più sempre più meschini uno di quelli più e uno di quelli più più meschini lo compie proprio Padraig quando quando cerca di allontanare scandalizzato dal fatto che Colm sia diventato un buon modello per altre persone gli altri aspiranti musicisti eccetera cerca di allontanarlo come si allontana come non so il fratello dalla mamma o dal papà per intendersi cioè soffre tantissimo questa 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 distanza l'altra nota sono perfettamente d'accordo sulla questione della sulla questione della sorella l'hai detta secondo me hai definito precisamente il punto cioè Colm uno degli altri scandali di Colm che viene presentato in questa solitudine abissale cioè è l'unico che ha una casa palesemente lontana da tutti gli altri sulla spiaggia eccetera Colm è desideroso di cura in qualche modo e questo è mi sembra abbastanza evidente una cura che non gli può dare per esempio il dogma della confessione o il dogma della chiesa eccetera eccetera certo partecipa anche lui ai riti sociali eccetera eccetera ma la questione è insanabile da quel punto di vista e però appunto quando Colm cerca di fare una cosa con con Sioban gli dice tu sei come me accetta il fatto che tu sei come me lei si sottrae a questa cosa perché ovviamente una qualsiasi evoluzione da quel punto di vista sarebbe una cosa cioè la cosa massimamente scandalosa e e atroce cioè si entrerebbe proprio nei nei nell'inferno più più proprio più oscuro della mediazione interna ma deve dire di no anche all'offerta d'amore semplice di 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 Dominic perché ovviamente anche quel tipo di scelta getterebbe uno scandalo infinito all'interno di una comunità così l'aspetto fiabesco lo rende molto bene secondo me questo aspetto il fatto che lei sia così diversa ok da tutti gli altri non può far altro che come dire condurla a scegliere di sottrarsi da tutto il suo non è un abbandono del del fratello è proprio il tentativo di non seminare scandali cioè la sua sottrazione è quello e tra le altre cose appunto una cosa che mi ha sempre stupito di Padraic è che come come del resto in qualche modo l'asino cioè è come dire soffre e si vede la sua sofferenza e però l'accetta in fondo cioè l'accetta ma in un senso nel senso proprio più alto del termine non che giustifica alcun che si vede più volte nell'ultima parte del film richiamare in qualche modo la sorella però in qualche modo cioè sa di essere ingiusto di essere ingiusto verso di lei e però in qualche modo però non cede alla tentazione cede alla tentazione perché in realtà quello è un aspetto molto più sincero di lui molto più animale per l'appunto questo bisogno esplicito di cura di accudimento e è una cosa che lo lega più alla componente alla parte gentile che invece che è l'aspetto disumano che è maggiormente umano in lui in un senso morale del termine e però appunto è lì che soffre sul letto e però è lì Adric rimarrà sempre lì cioè lo dice esplicitamente lui rimarrà sempre lì e so io volevo tornare sul diciamo il motivo del contendere il possibile motivo del contendere tra i due perché insomma si era detto qualcosa forse Matteo aveva detto qualcosa prima però al di là delle delle motivazioni che i personaggi esplicitano che sembrano insomma un po' piuttosto banali da una parte il fatto che uno che uno è noioso non parla altro che dei suoi animali oppure insomma anche tutto il discorso sulla musica poi ecco sul fatto che quanto la musica sia importante per tutto l'incontro dire tutte le persone possono essere noiose e sul diciamo l'importanza che lui assegnerebbe alla musica all'arte e si vede bene quanto quale quale sia la reale importanza che lui assegna alla musica e all'arte quando decide come mettere una barriera tra lui e il suo amico dice se mi parlerà ancora io smetto di suonare in buona in buona sostanza che è assurdo perché stai dicendo lui sceglie quella quella cosa lì insomma è davvero la musica la sua ciò che l'ha mosso a interrompere quella relazione allora come fa lui a autocondannarsi a non aver più la musica proprio a causa di quella relazione quindi secondo me la spiegazione da trovare in qualcos'altro che faccio un po' fatica a concettualizzare però credo possa essere definito come l'incapacità di Colm di non non riuscire a gestire il fatto ad accettare il fatto che la persona a lui più vicino non possa non sembra intenzionata non voglia far niente per diciamo sottrarlo dalle sue disperazioni dai suoi dai suoi demoni e quindi anche un po' come diceva Teo insomma quando il gesto di lanciare l'entità contro la porta è abbastanza agglantante ma in realtà mi sembra tutta la situazione parte proprio da una richiesta di rinnovare la relazione perché se lui non avesse voluto la relazione poteva andare avanti come insomma come probabilmente stava già provando dentro di sé da qualche mese poteva andare avanti e essere insoddisfatto con lui così sarebbe stato forse il modo migliore perché è una cosa tanto tanto eclatante per quel motivo lì credo e credo sia stato ben rappresentato nel film come anche nella relazione d'amicizia non è un'amicizia banale cioè da come ci viene descritta sembra un'amicizia abbastanza profonda tra i due però come anche nella relazione di amicizia profonda che sembra più stabile alla fine ci sia sempre in gioco la propria vita cioè sono comunque relazioni con un massimo potenziale di pericolosità il regista e colm volevano vogliono proprio ricordarci questo voleva ricordarsero colm e quindi spinge l'amico a mettere in gioco la sua vita la la sua nel senso di padraic e di se stessa e forse anche il regista ha voluto insomma appuntare la nostra attenzione su un fatto su questo fatto spero essere stato chiaro è stato molto chiaro del resto il desiderio di riconoscimento in Hegel emerge dalla lotta per la vita e per la morte ha un suo senso in qualche modo antigirardiano per certi aspetti perché appunto in fondo il desiderio è quello di essere riconosciuto di essere visto di essere in qualche modo cioè di essere curato da quel punto di vista secondo me è giusto quello che dicevi Marco io lo metto sicuramente al centro della questione orizzontale di di colm che è quella ovviamente più 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 concreta più più presente la narrazione che lui si fa è quella della quella dell'immagine eterna fissata attraverso la musica chiaramente ed è ovviamente anche una strategia in qualche modo un po' così non particolarmente diciamo così sottile ecco per sedurre per cercare di di gettare comunque scandalo su Padraic ogni volta che si mostra in mezzo a donne che suonando con amici o comunque con addirittura adepti allievi che vengono per imparare da lui eccetera eccetera la scena in cui è lì dove compone qualcosa li fa vedere che cosa ha composto che ha composto non so 20 note eccetera eccetera cioè è tutto giocato su questo su questo aspetto sì sì ma infatti volevo dire quella è la narrazione che lui fa a Padraic perché quando all'inizio viene chiesto più volte lui dice io voglio solo un po' di pace ma che cosa sia questa pace poi non è specificato non è tanto questione che lui non mi disturbi ma è trovare appunto una serenità e infatti a sostegno anche di quello che appunto stava dicendo Marco Padraic parlando con la sorella la prima sera mi pare prima la sorella gli aveva chiesto se lui si sentisse mai solo e lui reagisce irridendo questa domanda però il regista ci fa vedere che quando lui esce di casa chiudendo la porta questa domanda lo segue cioè lui continua a rispondere alla sorella pur essendo uscito dalla porta e non avendo più di fronte la sorella continua a dire ma che domanda è una cosa del genere anche con con quell'espressione bellissima che usano costantemente che non ripeterò più tardi più tardi quando loro parlano a cena dopo che lui è tornato la sorella appunto gli dice forse lui è un po' depresso e padre gli dice è quello che pensavo anch'io e mi ha colpito che lui lo dica a bassa voce lo dica alla sorella di fronte si china di fronte a lei solo loro glielo conferma dicendogli la bassa voce quasi che da un lato non volesse scandalizzare accusandolo o comunque dicendo ad alta voce quasi che non volesse in qualche modo dirlo a sé ad alta voce infatti subito dopo lui che cosa dice lei se lui ha un problema dovrebbe fare come tutti noi cioè soffocarlo non dovrebbe tirarlo fuori in questo modo che getta solo scandalo quindi sono d'accordo con Marco quando quando dice che c'è questa mancanza di cura che poi è probabilmente una forma di sopravvivenza che anche padre per non per non cadere dentro un certo tipo di gorgo però sì sono d'accordo che ci sia questo bisogno di rinnovare avvertito da colma e l'unico modo che ha è appunto in qualche modo fare quello che poi fondamentalmente ha fatto con 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 Jenny cioè soffocarla con il proprio dono dello scandalo no no sono assolutamente d'accordo con questa cosa quindi parlando delle cause e forse anche per quello che la figura della sorella secondo me in questo senso è molto importante perché la sorella fa per Padraic quello che Colm vorrebbe che Padraic facesse per sé per lui cioè prendersi cura avere la possibilità di avvertire la presenza di qualcuno lì accanto che riempie quei vuoti quelle mancanze di riferimento e in qualche modo ammorbidisce quell'angoscia quell'angoscia quindi sì assolutamente assolutamente d'accordo in questo senso ovviamente poi se volete parlare anche della figura di Dominic ovviamente è interessata molto ma per uno per un motivo che già diceva Matteo è un po' come la figura non solo dell'ultimo ma anche del buffone che proprio per questo è portatore di parresia è l'unico che dice le cose come stanno infatti è lui a quasi fare da riorientamento dello sguardo degli altri ed è lui a dire a Padri che tu sei diventato come gli altri pensavo fossi l'unico di vera invece così sei diventato come gli altri prende e se ne va ed è però l'ultima cosa che si dicono loro due perché mi sembra che subito dopo poi Dominic faccia questa proposta improbabile alla sorella con questa straziante frase anche questo sogno se ne va e vado a occuparmi di quella cosa che stava andando avanti di là è veramente straziante quella scena lì e poi dopo lui non vedrà più nessuno sì secondo me quella scena sulla scogliera merita di essere sottolineata perché fa precisamente vedere quello che si diceva cioè il processo di umanizzazione gerardialmente parlando e quindi i processi di adeguazione in qualche modo adeguamento alla società sono processi che ti conducono fondamentalmente alla violenza o comunque a comportamenti che fanno violenza sulla propria indole ok per cercare di imitare emulare un modello modello anche piuttosto alle volte astratto impersonale per certi aspetti e in quella scena appunto Padraic sfoggia di fatto davanti a Dominic il tranello di aver allontanato di aver allontanato un alunno possiamo dire così comunque una persona che si stava avvicinando sempre più a Colm rivendicandola come una sorta di gesto che andasse a in qualche modo diciamo così possiamo dire quasi a certificare che lui avesse compreso che cosa gli stava chiedendo Colm cioè di essere un di essere duro di essere così e lui sta palesemente imitando un modello assente un modello indefinito facendo danni perché ovviamente viene fuori solamente il lato meschino il lato meschino della cosa quando invece basterebbe andare effettivamente da Colm e parlare a cuore aperto poi non si sa che cosa sarebbe successo ma quella è l'unica via possibile e la risposta è appunto la risposta magistrale di Nick Buffone che appunto come in Shakespeare i Buffoni insegnano insegnano ai re gli dice sostanzialmente pensavo fossi pensavo fossi dice se non ricordo male dice fossi il più gentile addirittura e invece sei esattamente come gli altri e ovviamente poi tutto questo è giocato in polarità massime perché all'interno della in questo di questa sorta di trama mitica che McDonough va a definire intorno va a circoscrivere sulla vicenda relazionale il polo ovviamente massimo della di questo esercizio della della violenza come società come legge della società è il poliziotto chiaramente che è il padre di che è il padre di Dominic cioè il massimo di quella polarità e padre in qualche modo per per cercare di risolvere lo scandalo cerca di adeguarsi facendo esattamente quello che in realtà andrà a stimolare ancora di più il costante il costante riperpetuarsi della violenza rilanciata a tutti gli effetti una faida in cui alla fine poi muoiono solamente più innocenti mi piace mi è piaciuto molto la l'essere soffocato dal dono l'essere soffocato dal dono in effetti quello è a tutti gli effetti un dono avvelenato cioè non è un dono è un dono che pretende essere essere riconosciuto e e in qualche modo ricambiato ma ovviamente ovviamente non può far altro che perpetuare il male questo tipo di atteggiamento si proprio un po' tlaccio non è non è un dono la competizione coi dirmi eh sì esatto esatto però su cioè sulla morte degli innocenti non so forse ha senso anche appuntare l'attenzione sul fatto che ad esempio la morte dell'asinella non è non è intenzionale non è fatta è stata non è fatta di proposito e perché avevo comunque tutto sommato sviluppato un giudizio piuttosto ottimistico su film perché come suggerirebbe la la vecchia che è in un certo senso un po' la voce del della diciamo dello spirito tragico e della tendenza all'estremo questa vecchia strega appunto questo personaggio mitologico che richiama quelle origini violente sembra suggerire a Padreik di uccidere il cane per vendetta però Padreik non lo fa e l'altro amico Cole insomma non 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 gode minimamente ma non gli passa proprio per la testa di godere per la morte dell'asinella dell'amico anzi capisce tutto il il dolore insomma si pensa quasi che per pareggiare quella con la morte lì è giusto uccidersi quindi insomma nessuno dei due mi sembra sia sia così preso dalla corsa all'estremo da far fuori degli innocenti ma forse perché mi è venuto in mente adesso entrambi si riconoscono in fin dei conti essi stessi e l'altro si riconoscono innocenti forse Cole capisce sa che non può veramente colpevolizzare l'amico per per quella mancanza di cura Cole per quella mancanza di di cura così come l'altro sa che non può padre sa che non può colpevolizzare Colm per tutta questa messa in scena perché effettivamente lo sa in qualche modo corrispondeva a un reale dolore quindi ecco non so questo è venuto in mente adesso però forse gli animali dicevano qualcosa erano ecco magari dei doppi dei due personaggi i due personaggi li riconoscono in un certo senso come tali cioè non li puniscono non li coinvolgono nella violenza perché sanno che a un certo livello anche loro non sono colpevoli di questa questa violenza ma io ti dire nel senso sono d'accordo sul fatto della dell'intenzione cioè nel senso delle intenzioni intese in un senso particolarmente forte il punto secondo me è che tutto il resto del discorso che hai fatto diciamo così è inverato cioè si invera proprio a partire dalla dal riconoscimento della della diciamo così dal riconoscimento di di ciò che porta come dire la relazione da scandalizzata a diventa a tradursi in violenza cioè è proprio il fatto di aver visto l'incidente di una morte innocente che effettivamente poi da una parte in qualche modo da una parte rilancia la faida ma dall'altra cerca di in qualche modo di trovare come dire l'alterità al cuore della reciprocità dice Girard richiamandosi sostanzialmente in qualche modo a Levinas all'interno di portando Clausewitz all'estremo cioè è proprio partire da quella è proprio partire da quella morte innocente cioè sono d'accordo anch'io che in qualche modo la violenza sull'altro in qualche modo pare essere sempre sotto controllo tra virgolette tra i due e tuttavia era in automutilazione un'automutilazione sempre più come dire iperbolica e cioè voglio dire adesso io non sono un medico però se vai avanti così cioè non è che puoi sopravvivere granché su un'isola certo poi l'effetto è comunque quello fiabesco mitico chiaramente siamo d'accordo però il concetto è che da una parte si era attivato un meccanismo di automutilazione che significa sostanzialmente fare violenza cioè che è un modo di fare violenza all'altro soprattutto se poi il frutto di quell'automutilazione è gettato per marcare una differenza invece secondo me è molto bello il fatto che cioè molto bello nel senso è molto rivelatore il fatto che il frutto dell'automutilazione sia poi ciò che porta la morte e non un atto violento di per sé sull'altro è proprio il fatto di dire ok questa cosa qua porterebbe effettivamente alla o mia o tua o quella che è distruzione annichilimento totale occorre in qualche modo nella dinamica del potlac rilanciare però per ritrovare in qualche modo una sorta di di mediazione virtuosa fino alla relazione fermiamoci cioè condividiamo la cura di qualcosa la cura del cane cioè è come se il cane fosse una sorta di elemento vicario che potrebbe poi effettivamente condurre alla riapertura poi non è detto automaticamente però davanti alla violenza occorsa all'asinella che comunque cioè era era veramente una parte di Padraic era veramente qualcosa di di cioè di diverso rispetto a ciò che si intende normalmente con il possesso di un animale addomesticato in qualche modo e questo è palese dagli atteggiamenti anche della sorella che non la vogliono troppo vicino in qualche modo in casa e però mi sembra che è così come e reciprocamente c'è quella scena bellissima in cui Padraic vede Colm ballare con il cane cioè c'è veramente questa costruzione simmetrica che più ci più ci ripensi più effettivamente capisci che il film è costruito in maniera molto simmetrica proprio a testimoniare la la effettivamente quanto sia poco sostanziale la la questione della simmetria e quindi il manicheismo e che però sia il manicheismo sai è la chiave d'accesso per essere ascoltati in occidente ahimè in qualche modo e quindi devi fare effettivamente devi strutturare una sorta di doppio canovaccio di doppia lettura e però secondo me questa può essere una cioè non è tanto una risposta comunque sono piuttosto d'accordo su quello che hai detto cioè e anch'io rivedendolo comunque sono più aperto a una a un finale diciamo tra virgolette ottimista però a che prezzo nel senso a prezzo di due innocenti che che muoiono che muoiono proprio come frutto di un'espulsione mitica di una persona la sorella che si sottrae dalla da ogni tipo di conflitto e preferisce il rischio della guerra civile tra protestanti e cattolici sulla terraferma piuttosto che l'inferno di Inesherin e e poi appunto questa questo luogo soglia la spiaggia che e che però è appunto anche lì il finale molto molto western su questa spiaggia con padre che si allontana in mezzo a dividerli c'è la la strega in qualche modo che è una sorta di come dire di strizzatino di strizzatina d'occhio demiurgica che raga in occidente c'è niente da fare la fa anche Shyamalan in qualche modo alla fine di bussano la porta in una maniera molto diversa però è proprio che certi autori nonostante squadernino in maniera veramente esplicita delle tematiche anti-manichè se la fanno addosso e devono sempre reinserire questo elemento che in qualche modo o getta un'ombra perché ovviamente la strega sul promontorio che guarda la spiaggia e la scogliera che guarda la spiaggia quello che è e loro due lì in mezzo cioè è un gettare un'ombra oppure fa un po' l'effetto Deus Ex Machina Demiurgo eccetera eccetera e ci dobbiamo tenere così già tanto che è arrivato tutto il resto a livello di analisi relazionale e finezza psicologica pensavo giusto un elemento che non abbiamo su cui non ci siamo soffermati che però rientra poi i discorsi che sono già stati fatti è interessante che si parlava prima della figura del poliziotto che Colman a un certo punto si avvicina al poliziotto cioè che cerchi degli allievi attraverso il quale nutrire la propria immagine che aspira alla figura del grande artista questo è coerente tutto sommato ma che dopo aver allontanato da sé Patrick accolga nella sua cerca mettiamola così una persona di cui lui stesso poi mostra in più di un'occasione un certo disgusto questo fa strano io inquadravo questa dinamica nell'ottica di semplice funzioni di creare scandalo nel nell'amico nel vero amico che è Patrick ovviamente non ha un'altra funzione questa cosa ma quel creare scandalo ma forse neanche in apparenza vuole avere lo scopo ultimo di distanziare perché in realtà è una provocazione troppo esplicita per non portare in una direzione esattamente contraria e infatti se ricordo giusto è quando Patrick è disgustato da questa dinamica di lui del suo caro amico che si mette in cobutta col poliziotto cioè proprio in quel momento lì che fa partire tutta quella litigata in cui fa emergere il discorso sulla gentilezza a cui poi con risponde tutta quella scena in cui forse più di ogni altra si parla in maniera esplicita è proprio il frutto il discorso è che quello secondo me è uno proprio di quegli elementi in cui la cosiddetta finza cioè il fatto che ci sia il tentativo di un distanziarsi in realtà sia assolutamente finto ma lo sia in maniera esplicita cioè è troppo esplicito il fatto che non ha nessun senso che Colm si avvicini a un personaggio come il poliziotto è troppo esplicito il fatto che sia una provocazione rivolta a quello che sarebbe invece quella che sarebbe la persona che deve svolgere il ruolo di vero amico e quindi prima si diceva in realtà quello che in realtà Colm cerca è una persona che gli vada incontro nella sua depressione lì si mostra direi praticamente in maniera esplicita cioè la finzione è così inconsistente che in realtà è difficile poter definire una finzione cioè quasi viene da dire che in realtà è uno stratagemma del tutto esplicito per arrivare il rapporto tra Colm e il poliziotto è di questo tipo poco prima cioè qualche scena prima che accadesse l'avvicinamento nella nella locanda è proprio la scena in cui il poliziotto picchia Padraic per aver per aver sostanzialmente gettato scandalo essendo sincero dalla dalla postina dalla insomma nella posta in cui non porti non porti mai notizie non porti mai notizie sei noioso per l'appunto che ovviamente è motivo di grande scandalo per padre che padre dice no beh il poliziotto qui il nostro tutor della legge si diverte a picchiare suo figlio fino a morte tanto che Domini che al momento è ospite a casa mia e la la quella delle poste le risponde che bella notizia di merda dice sostanzialmente questa non è una bella notizia notizia di merda e poi vanno vanno fuori e ovviamente il poliziotto le la fa pagare colme testimone di questa scena e aiuta in maniera silenziosa si prende cura di Padraic Padraic che piange mentre è accompagnato a casa e poi i due si dividono veramente in maniera curiosissima una delle scene successive poco dopo è quello che quello che descriva precedentemente Pietro di questo di questo strano stratagemma non neanche troppo sottile di seduzione di appunto di cercare di sempre rimarcare una differenza per poi appunto in qualche modo permettere a Padraic di brillare particolarmente in qualche modo perché davanti alla pochezza in qualche modo del poliziotto ecco la gentilezza di Padraic rifulge ulteriore scena in cui compare il poliziotto è quando Colm gli tira un cartone allucinante e lo mette K.O. proprio quando i due stanno per avere un alterco verbale piuttosto accentuato e il poliziotto entra come suo solito umilia Padraic e Colm e Colm gliela fa pagare e lo mette K.O. ed è un elemento interessante perché forse ma questa è una lettura abbastanza così un po' diciamo un po' libera chiaramente però è come se in riferimento al fatto che il contraltare storico della relazione tra Padraic e Colm è la guerra civile in atto sulla terraferma è come se ci fosse una sorta di sottile suggerimento che per chiarire effettivamente una dinamica di stasis di guerra civile non ci sia bisogno di un istituto terzo che poi terzo non è è meglio che i due rivali come dire si sfidino si arrivino anche alla violenza ma in qualche modo poi abbiano la possibilità di guardarsi di vedersi di riconoscersi di riconoscere soprattutto lo specifico dolore altrui è una possibilità ovviamente però è curioso come appunto ci possa essere questa ci possa essere questa dinamica e una dinamica che in qualche modo si rilancia quando nel tentativo un pochettino così compassato di riprendere la conversazione il chatting parlano della guerra civile colm dice forse non si sentono più spari da qualche giorno forse sta smettendo l'altro dice no andrà avanti ancora e in qualche modo va bene così cioè così deve andare e nella guerra civile c'è più possibilità di riconoscimento e relazione rispetto a rispetto appunto a una struttura come dire dominata da dalla legge tra virgolette una legge simbolica chiaramente però questa è una possibilità ovviamente è una possibilità di lettura un po' forzata chiaramente un po' al limite però secondo me è un aspetto interessante cioè senza ovviamente farne un discorso politico cioè non è questo che fa chiaramente suggerisce come se suggerisse il fatto che la realtà la verità di una guerra civile sta nella relazione in qualche modo sta in nel legame di concordia all'interno della discordia si sono assolutamente d'accordo con questa cosa il poliziotto è la figura della sovranità della violenza questo è evidente ed è infatti lui che parlando della guerra civile dopo aver detto ah io vado adesso vado mi hanno chiamato per assistere a questa esecuzione e pensa che pure mi pagano io sarei andato anche gratis la sovranità della violenza o meglio la violenza della sovranità un po' reciproca questa cosa qui infatti lui che cosa dice della guerra civile lui dice ah ma non era meglio quando ce l'avevamo con gli inglesi anziché spararci tra di noi cioè quando si poteva istituire una sovranità unica che spelleva all'esterno il nemico e pacificava tutto all'interno il poliziotto dice chiaramente questa cosa qui e come giustamente puntualizzato Matteo quando il poliziotto arriva alla fine umiliando Padre che lo tiene per i capelli e Padre non risponde Padre che è invisibile alla presenza del poliziotto in quel momento lì si lascia tirare i capelli e lui allo sguardo si è fisso su colma il pugno di colme proprio come dicevi giustamente anche tu non il superamento ma in qualche modo la messa da parte di questo potenziale imporsi di una sovranità violenta che stabilisca un nemico esterno perché fino all'ultimo colmo da quel momento comunque continuare a ribadire questa per noi è un'uscita cioè questa è la risoluzione basta va bene così perché ha trovato quel riconoscimento che poi da quel momento continuerà in qualche modo sempre a offrire a Padre non solo con la serta di mano ma anche poi dopo con il ringraziamento per il cane e tutto il resto sì anche perché appunto la violenza in qualche modo a quell'altezza del film si è effettivamente sfogata quel tipo di violenza che tra amico nemico polarizza poi sull'esterno e appunto le spese l'hanno fatto l'asinella e l'invisibile che come sempre accade già di per sé in qualche modo è una morte il non essere visto e va bene mi pare che la discussione e l'analisi sia stata piuttosto approfondita nelle varie scene nei vari dettagli e quindi niente saluto ti saluto saluto tutti saluto te Simone Marco e Pietro ciao a tutti e niente alla prossima al prossimo episodio per dir così ciao a tutti Grazie a tutti